Sono Piero Micheli e nel 1966 ero a quell'epoca un funzionario del Comune di Firenze e stavo all'interno dell'Ufficio Belle Arti del Comune che aveva responsabilità nei confronti dei musei comunali, degli edifici storico-artistici di proprietà del Comune. Quindi nel 1966 fui coinvolto, non dico in prima persona, ma quasi nel problema conseguente al disastro dell'alluvione del 4 novembre. Il professor Carlo Ludovico Ragghianti stava pensando a allestire una mostra di artisti italiani dal 15 al 35 in Palazzo Strozzi, mostra che fu sospesa a causa dell'alluvione. A questa iniziativa di Ragghianti, della mostra degli artisti italiani tra il 15 e il 45, si sovrappone a causa dell'alluvione l'ideazione di Carlo Ludovico Ragghianti di invitare artisti italiani e internazionali a donare ciascuno una o più opere d'arte per risarcire il danno che la città aveva subito con la perdita delle opere d'arte alluvionate. Questo appello di Carlo Ludovico Ragghianti ebbe un grande successo perché moltissimi artisti italiani, anche non italiani se ben ricordo, risposero affermativamente e nell'arco di pochi mesi arrivarono a Firenze centinaia di opere. Un primo arrivo si compose di 192 opere. Queste opere dovevano in qualche modo essere esposte per testimoniare la generosità di questi artisti. Ragghianti si rivolse al comune, il quale dovette necessariamente mettere a disposizione una sala per esporre queste opere. Siccome io ero un funzionario dell'ufficio Belle Arti, dovetti occuparmene. E queste 192 opere furono stipate nell'interno della Sala dei Duecento. L'intenzione era che queste opere dovessero costituire il nucleo per un museo internazionale d'arte contemporanea che ha avuto poi delle vicende alterne e che non ha poi avuto una soluzione nei termini nei quali Carlo Ludovico Ragghianti aveva previsto. Sono andate a finire nel Museo Novecento anche le opere donate dagli artisti dopo l'alluvione del 66, le quali furono per diversi anni disperse e separate in vari uffici, in vari ambienti, nel Chiostro delle Oblate, nella Biblioteca delle Oblate, negli uffici comunali. E finalmente, con la Costituzione del Museo Novecento, queste opere sono state riunite all'interno del Museo di Piazza Santa Maria Novella. Perciò il Museo Novecento contiene la collezione Rosai, contiene la collezione della Ragione, contiene le opere di Magnelli, contiene le opere degli artisti del 1966-67, oltre ad altre opere che non si riferiscono a questa iniziativa di Ragghianti e quindi costituisce in qualche modo quel Museo d'Arte Contemporanea che Ragghianti avrebbe voluto. Certamente non è il tipo di struttura che era stato preconizzato, perché questa struttura avrebbe dovuto consentire anche la permanenza degli artisti, l'esecuzione di opere in loco e il Museo d'Arte Contemporanea ha dovuto necessariamente trovare una soluzione in un ambiente storico come l'ex convento di Leopoldina in Piazza Santa Maria Novella, che è un buon contenitore, ma non è altro che un contenitore. Questa è un po' la storia di quello che è avvenuto a seguito dell'alluvione del 1966 per quanto riguarda l'acquisizione di opere d'arte contemporanea, che ora sono andate a collocarsi nell'ex convento delle Leopoldine e che all'80% contiene proprio le opere che furono acquisite dalla città dopo quell'evento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.